Voglio fare il protagonista per me stesso, ma non è che io pensassi di fare la Formula 1, eccetera, eccetera, eccetera. E io a 25 anni, 26 anni, sono andato negli Stati Uniti con Benetton. Ma sono andato negli Stati Uniti, ma allora l'America era una roba lontana, cioè l'America era lontana, altro che... Ma pensavo che in Italia, uno come me, che non aveva un nome giusto, che non abitava in una città giusta, ho detto, ho talmente tanti, sono già nell'handicap da solo qui, poi sono tanti handicap che se io non vado via di qua, io avrei fatto la comparsa per tutta la vita, sarebbe diventato magari il sogno di mio papà che io facessi geometra e disegnassi le stalle, perché credo che un geometra poteva arrivare fin lì, poi doveva essere ingegnere. A me la scuola non era veramente il mio must, non era la cosa che preferivo. E allora è la rabbia, questa è la rabbia, cioè sei incazzato con te stesso. Dici, ma perché io non sono nato a New York, o perché non sono nato a Milano Centro, o perché non sono nato a Roma? Allora questa è l'incazzatura. Quando sei incazzato, dici, benissimo, giriamo la cosa e vediamo cosa riesco a fare. È tutto lì. La rabbia è questo, perché la rabbia ti dà la forza di lavorare di più, ti dà la forza di pensare di più, ti dà la forza di viverla. Il lavoro lo devi vivere. E poi l'opportunità, deve essere anche bravo per prenderla. Allora, per la forza di pensare 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 di